Ehi ragazzi, ciao da Barbie! Avete anche voi quell'amica che riesce sempre a scegliere l'outfit più giusto per ogni occasione? Io ce l'ho! E' Nicky! Barbie, il rosa è proprio il tuo colore! Il suo superpotere è la creatività! Creerò per te un look pazzesco! Qualcosa di vistoso, ma non è ceccante! Ok, forse anche è ceccante! Nicky è un vulcano di idee sempre nuove! Ma ha un nuovo progetto, porta bicchiere per tavola da sole! Cosa? Lo trovo geniale! E dà sempre un suo punto di vista sulle cose! Che colore di caramelle sarà bandito dal tuo camerino? Se fosse il mio, il blu! Non mangio caramelle blu, mai provatele e odio! Ma bisogna assolutamente evitare che si spaventi! Cosa? Perché mi guardate così? No, dai, su, serio! Che c'è? Scoprite di più su Nicky, la famiglia di Barbie e tutti i suoi amici con Barbie Dreamhouse Adventures! Che c'è?